ci ricogniamo fatemi sapere per favore se mi vedete e sentite grazie fatemi sapere speriamo speriamo in questa volta buona ok giorgio per favore fammi sapere se tutto a posto io non so che cosa mi sta succedendo mamma mia non capisco perché non mi fanno non mi fanno mai fare una lezione così come si deve perfetto grazie cristina grazie a tutti ok allora riconnettersi tutti mi dispiace mi dispiace preparate i pendoli preparate pendoli preparate la carta e penna ok è importante sì tutto bene erika grazie grazie ragazze scusatemi ma ormai bene sta molto perfetto grazie maria caterina angela buonasera buonasera stefania tiziana buonasera che bello che ci siete sono felicissima che possiamo farlo ok ok tutto bene ok ti vedo bene audio un pochino offuscato ragazzi anche l'audio ok bene allora facciamo una facciamo una un bello ripassino giusto un attimino allora l'altra volta abbiamo parlato di sei forze sei forze che stanno alla creazione dell'universo spirito materia tempo spazio morte e la nascita buonasera antonella buonasera sogna tutti buonasera tatiana allora e abbiamo visto che senza queste sei forze non esisterebbero né pianeta né stelle neanche noi quando guardo l'universo vedo una specie di esagono ma questa sto parlando in modo molto simbolico vi faccio vedere questa piramide ok se noi pensiamo che sei forze dell'universo quando si uniscono in un unico loro potere si uniscono in un punto loro sono sei avevo scelto esagono come se non hai trovato pendolo antonella puoi prendere qualsiasi cosa che pende oppure puoi guardare benissimo questa trasmissione e poi dopo nel secondo momento riguardarlo e fare tutti gli esercizi che voglio proporvi e visto che stiamo parlando della forza della creazione il creatore sta proprio alla base di tutto poi dopo lui usa queste sei forze per creare noi stessi vedo un pochettino come piramidina abbiamo un nostro punto di potere noi siamo il creatore del nostro stesso universo e abbiamo un nostro punto di potere dove uniamo tutte le nostre capacità tutte le nostre forze che abbiamo e vedo le persone un attimo come come delle piramidine quando noi ci nasciamo sulla terra abbiamo anche noi una certa quantità della materia quantità e qualità la materia rappresenta sia corpo fisico che anche i bene materiali che abbiamo lo spirito rappresenta i talenti capacità rappresenta la nostra parte spirituale poi abbiamo tempo e spazio noi viviamo diversi tempi in diversi spazi occupiamo diversi spazi anche sulla terra abbiamo la nascita la nascita non è soltanto visto dal punto di vista fisico che noi ci lasciamo fisicamente basta la nascita noi viviamo ogni giorno quando ci svegliamo alla mattina quando ci sono i nuovi inizi di qualcosa quando noi facciamo i nostri figli la nascita ogni giorno di un nuovo sentimento un nuovo pensiero nuova emozione ma abbiamo anche la morte e non sto parlando soltanto della morte fisica che comunque questa sorte purtroppo aspetta tutti ma abbiamo i morti come fine come fine di qualsiasi ciclo che dobbiamo chiudere vecchi rapporti dobbiamo andare dal nostro vecchio posto di lavoro insomma avere qualche cambiamento nella vita dove una parte finisce e una parte inizia allora molto spesso noi entriamo in conflitto con queste nostre forze entrare in conflitto con lo spirito è molto semplice quando noi non accettiamo dentro di noi nostri talenti e le nostre capacità quando evitiamo di avere un buon umore quando entriamo nella depressione quando cerchiamo di distruggere la vita di qualcuno noi entriamo in conflitto con lo spirito quando parliamo della materia anche con la materia possiamo entrare in conflitto perché non spesso vogliamo bene al nostro corpo fisico non sempre gestiamo bene i nostri bene materiali i soldi li possiamo rifiutare li possiamo disprezzare possiamo entrare in conflitto con i nostri tempi quando ci aggrappiamo tanto al passato o proiettiamo soltanto il nostro pensiero verso il futuro possiamo entrare in conflitto con lo spazio quando disprezziamo i spazi che ci sono state concesse perché un posto di lavoro è uno spazio ben definito dove voi avete guadagnato dove avete conosciuto delle persone dove siete cresciuti professionalmente e allora disprezzando qualsiasi posto noi entriamo con lui conflitto cosa porta porta che non si aprono più altri spazi non riusciamo trovare un posto di lavoro quando entriamo in conflitto con la nascita vuol dire che non facciamo nascere dentro di noi niente di nuovo non vogliamo vedere le novità stiamo sempre aggrappati al nostro pensiero standardizzato non avendo la mente flessibile non partecipiamo a qualcosa di nuovo che il destino vuole 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 proporci entriamo in conflitto con la morte non soltanto quando disonoriamo i nostri cari trapassati che stanno nel mondo spirituale senza chiudere finalmente il ciclo con loro ma anche quando non riusciamo chiudere qualche rapporto non riusciamo finalmente portare tutta la situazione qualsiasi situazione a una fine concreta e così quando noi nasciamo la nostra piramide con tutte le forze che abbiamo che si uniscono in questo un unico punto di potere perché noi possiamo creare soltanto avendo un buon rapporto con tutte queste nostre forze noi quando nasciamo la nostra piramide perfettamente centrata con la piramide dell'universo dove i nostri concetti le forze madri padri cioè i nostri genitori possono darci ancora qualche mano e a volte noi cominciamo entrare in conflitti con tutto e con tutto con la nostra vita con le nostre emozioni con le nostre talenti cominciamo spostare la nostra piramide non riusciamo più ricevere un un aiuto dal mondo spirituale in generale dall'universo cosa si può fare per poter mettere a posto il nostro rapporto con delle forze che abbiamo perché ogni una delle nostre forze è una è un energia è un talento è un uno strumento con quale noi possiamo avverare i nostri desideri diventare quello che vogliamo diventare perché per creare una situazione parliamo della creazione in generale parliamo una sorta di magia ma in senso buono di questa parola perché come dico sempre per me un mago più grande che esiste nell'universo è il creatore stesso guardate che roba ha creato è una magia pura perciò quando parlerò della magia parlerò della creazione in noi la facciamo per poter veramente avere tutta la forza tutto il potere per creare abbiamo bisogno tutte le nostre strumenti che li uniamo in un unico punto di potere e attraverso questo punto possiamo fare qualsiasi cosa gestendo i spazi e i tempi entrare in contatto con altre dimensioni possiamo non so costruire i nuovi rapporti trovare un un nuovo posto di lavoro possiamo fare tantissime cose ma prima di tutto prima di diventare un vero mago creatore in questo senso abbiamo bisogno di pulire tutti i nostri conflitti avevo scritto in libro che si spero eterno una parte dedicata proprio all'elaborazione di questi conflitti però voglio portarvi una cosa nuova per le persone che non sanno che cos'è questa forza per farvi ritornare di essere i maghi di essere i creatori quello che infatti è stato programmato per noi da sempre perché noi non siamo venuti sulla terra per soffrire non siamo venuti per distruggere non siamo venuti per essere sempre arrabbiati e stare da soli molte persone si trovano da soli dicono perché non riesco a trovare un partner perché non funziona questo perché funziona quello e di solito cercano di accusare l'universo dicendo ecco il creatore non mi sta portando un marito ecco le forze superiori l'universo destino di karma non mi fanno realizzarmi allora ragazzi non è così bisogna cominciare da noi perché noi creiamo questi conflitti con noi stessi con l'universo e allora io vorrei proporvi prima di tutto di fare un test allora avete bisogno di scrivere sul foglio io purtroppo prima avevo questa condivisione dello schermo che adesso non riesco più farlo perché ho cambiato diapositivo cosa faremo scrivete per favore sul foglio che sono sei nomi di queste forze ok che è spirito spirito materia tempo spazio morte e la nascita vedete a specchio mi dispiace preparate il vostro pendolo ok perché adesso facciamo proprio una bella prova con chi delle nostre brava paola si creiamo la nostra realtà e adesso dobbiamo vedere con chi delle nostre forze noi siamo in conflitto ma prima di farlo via vi posso consigliare di fare una cosa perché dobbiamo trovare anche quantità dei conflitti che abbiamo e poi vi spiego anche perché le avete potete scrivere i numeri da 1 a 9 almeno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tutto a specchio mi dispiace ok io spero che voi sapete lavorare un po con il pendolo giusto almeno sapere come sarebbe sì e come sarebbe no provate prima ad entrare prima di fare questo test entrare in contatto con voi stessi cercare il vostro punto di potere capite che voi non siete soltanto corpo fisico avete dentro la forza e un'energia incredibile di essere creatori quindi pensate che avete il corpo fisico che è la materia sentitela avete lo spirito e la vostra energia puoi ripetere le parole spirito adesso vi sto ripassando tutti allora materia che è il nostro corpo fisico spirito spirito è il nostro è la nostra parte spirituale la nostra anima sono i nostri talenti le nostre energie abbiamo i nostri tempi il tempo quando siamo nati i tempi per crescere per maturare i tempi che dedichiamo ai nostri cari il tempo del passato è il tempo per il nostro futuro noi siamo il tempo noi siamo il nostro passato presente e futuro vorrei che provate a percepire che voi siete un tempo voi siete anche uno spazio e un'altra forza che noi utilizziamo tutti i giorni noi occupiamo i spazi noi siamo venuti su questo pianeta terra per occupare uno spazio e siamo qui noi ogni giorno entriamo in diversi posti visitiamo diversi diversi spazi la casa vostra è uno spazio il vostro ufficio un altro spazio la casa dei vostri genitori un altro spazio andate al lago visitate un posto che vi è stato concesso a visitare voi siete spazio anche poi abbiamo la nostra morte morte io sono anche la morte perché sono io che concludo le cose che mi servono sono io sono io di poter gestire tutti i passaggi nella mia vita e dare a loro una giusta conclusione io sono anche la nascita faccio nascere tutti i giorni ciò che è bello dentro di me faccio nascere la speranza e amore anche dentro nelle altre persone ogni giorno mi nasco quando mi sveglio e quando noi uniamo tutte queste sei forze forze poteri che abbiamo dentro di noi noi arriveremo a questo punto zero della creazione pura entriamo nella coscienza dell'assoluto che abbiamo dentro di noi se il creatore ci ha voluto vedere alla propria immagine e somiglianza non è che perché noi lo somigliamo in faccia lui ha tutte le nostre facce con tutte le persone che viviamo sulla terra ma condivide con noi anche questo tipo di potere potere di gestire tempo spazio spirito materia morte e la nascita ma nel nostro universo personale con quale noi come creatori spesso entriamo in contatto e in conflitto e non permettiamo ad evolversi il nostro universo personale vorrei adesso che provate chi sa lavorare con il pendolo perché una settimana fa no quanto tempo fa sì una settimana fa vi ho fatto proprio annuncio chi non sa lavorare con il pendolo provate perché ci sono veramente tantissimi diversi tutorial anche su youtube per esempio ci sono dei libri che vi fanno capire come funziona il pendolo provate a capire con quale di queste vostre forze siete entrati in conflitto e poi capiremo anche perché cosa avete fatto di sbagliato perché quella forza che deve lavorare per voi perché è venuta e si è rincarnata qui per voi per qualche motivo non vuole collaborare perché l'avete offeso che cosa avete fatto di sbagliato però cerchiamo di capire tutti insieme adesso almeno questo sarà il vostro compito a casa però proviamo almeno vedere chi ha il conflitto con lo spirito voi avete scritto spirito materia tempo spazio morte e la nascita e poi nove cifre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entrate in contatto con la vostra anima con la vostra forza il potere personale di essere creatore sentite un attimo come questa forza come questa forza si connette con il vostro pendolo e passate sulla scritta dove avete scritto spirito e chiedete caro spirito sono in conflitto con te io ho elaborato perciò a me dici di no ma io ho elaborato tantissimo tutti i nostri conflitti fatemi sapere se a qualcuno dici di sì e vi posso garantire che tutti quanti potete sentire un conflitto a livello dello spirito spirito che cos'è talento capacità non vista non espressa emozioni negative che abbiamo tutto il nostro tutta la nostra rabbia verso le altre persone odio tutta la nostra depressione tutte le nostre di ciò che noi non siamo contenti vorrei proprio parlarvi con farvi parlare con lo spirito Michela dice di no ok spirito materia tempo spazio morte e la nascita però adesso lavoriamo con lo spirito chi trova Sara sì lo so che magari no perché hai fatto questo corso e allora hai elaborato la tua parte spirituale però a chi dice sì a chi dice sì provate per favore a trovare quanti conflitti sono da uno a nove a chi dice di no lo spirito a chi dice di no provate con la materia la materia che rappresenta il vostro corpo fisico in modo come trovate come trovate il vostro il vostro corpo come lo gestite come lo amate ma sono anche i beni materiali come gestite tutti i vostri soldi se non li spendete chissà dove se non vi arrabbiate alle persone quelle che magari hanno più di voi mariella mariella movimento rotatore destra sinistra io non so mariella in che modo è impostato e calibrato il tuo pendolo dovresti già sapere in che modo funziona come ti risponde sì e come ti risponde no e alla base di ciò come tu avevi calibrato il tuo pendolo capirai capirai infatti cosa sta succedendo daniela si materia ok chi non ha spirito e materia allora guardate è molto difficile che non c'è nemmeno un conflitto credetemi per evitare che ci sono i conflitti bisogna fare un lavoro spirituale grandissimo magari certamente voi siete molto eliminate e vi auguro di non avere questi conflitti però se rita chi si connette poi a metà dovete scrivere tutti i nomi delle forze con quale voi potete consapevolmente o non consapevolmente entrare in conflitto allora cercate di trovare quanti conflitti sono uno due tre eccetera se non avete conflitti con la materia vabbè trovate con il tempo se siete sempre in ritardo se non siete mai nel momento giusto e nel posto giusto vuol dire che avete un conflitto con la materia se avete un malessere fisico questo è un conflitto con la materia e non può essere che il vostro pendolo vi dice che non avete un conflitto perché la malattia è un conflitto ok allora perfetto vedo che magari se il vostro pendolo non vi fa vedere un conflitto magari non vi siete concentrati bene avete bisogno veramente sentire che la vostra stessa forza non è il vostro inconscio non la vostra mente ma le vostre forze unite tutti quanti insieme sintendovi il creatore della vostra vita questo creatore deve guidare il vostro pendolo perché per la creazione ci vogliono tutti sei elementi ok cosa succede perché lo spirito per esempio o la materia va benissimo materia sette conflitti va bene mi dispiace che ce l'hai ma quando capirai perché che cosa sta succedendo riuscirai risolverli velocemente ok allora vi posso dare diversi diversi metodi di come si può risolverli tempo sei nascita sette e remo potrebbe essere sì 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 assolutamente io anche se lavoro tutti i giorni a me purtroppo succede anche tutti i giorni di trovare un qualcosa basta arrabbiarsi e tu entri subito in conflitto con lo spirito basta dire a una persona non lo so no non sei capace e tu entri in conflitto con lo spirito perché tu stai portando la distruzione all'altra persona nessuno di noi è perfetto nessuno ogni emozione vorrei parlare proprio delle emozioni per quello ho cominciato con lo spirito perché noi siamo molto veloci entriamo in conflitto attraverso le nostre emozioni negativi negativi e anche i pensieri negativi in questo noi abbassiamo le nostre vibrazioni abbassiamo quando parliamo di un'illuminazione spirituale non si può essere illuminate nello spirito se tu hai conflitto con lo spirito se non riesci a gestire le tue emozioni se tu sei cattivo verso le altre persone se non sei riuscito a elaborare la tua rabbia il tuo disprezzo verso le altre persone cioè il spirito dice non ce la faccio più non te do più la mia forza perché stai usando i tuoi strumenti per poter rovinare la vita tua o la vita delle altre persone la materia spesso è anche indicatore fisicamente proprio tangibile di ciò che succede nel nostro rapporto con altri con altri concetti forze perché soltanto quando la nostra materia comincia a rovinarsi cominciamo a sentire malessere di qua malessere di là può essere una proiezione di un conflitto con la morte di un conflitto con la nascita perché loro cercano di farvi capire che voi siete in conflitto con questa forza attraverso le situazioni che vi circondano ma nessuno le vuole vedere o poche persone vogliono comprendere cosa sta succedendo e per questo la materia aiuta i propri fratelli di mandarvi un messaggio ancora più tangibile che così vi fermate un attimo e capite che cosa state state facendo perché voi stessi noi stessi perché parlo voi però compreso anche me stessa roviniamo qualcosa invece di costruire ok allora parliamo del nostro corpo astrale che cos'è il corpo astrale è il nostro corpo che si ammala per primo perché il nostro corpo astrale proietta o contiene esattamente tutte queste nostre emozioni il corpo astrale è il corpo delle emozioni delle fantasie quando vogliamo alzare le nostre vibrazioni per arrivare magari fare un contatto medianico o chiedere aiuto alle nostre guide che tra l'altro il contatto medianico il lavoro spirituale è strettamente legato con lo spirito è lo spirito che vi porta a fare la connessione se vedete due tre dieci conflitti con lo spirito potete capire che tipo di connessione potete fare con il mondo spirituale che cosa avete fatto di sbagliato per poter poi non avere la connessione non riesco a comprendere lo spirito collegato tempo e nascita mi puoi spiegare Remo e ho spiegato tutto proprio all'inizio di questa trasmissione e anche settimana scorsa che abbiamo già cominciato a fare questo percorso con le persone che sono connesse per non perdere il tempo ti chiedo scusa ma se possiamo se puoi vedere poi in registrazione che così posso andare avanti perché non abbiamo molto tempo tutto quello che abbassa le nostre vibrazioni e infatti sono le emozioni negative visto che noi incontriamo il mondo spirituale a livelli più alti dove dobbiamo avere vibrazioni molto forti entrando in contatto stretto con il nostro spirito e anche con il spirito dell'universo perché per fare un contatto medianico prima di tutto deve essere lo spirito perché questo è il nostro intento di farlo però poi arriva uno spazio tempo che ci aprono le porte spazio temporale per aiutare a fare la connessione c'è la morte se noi abbiamo cominciato contatto vuol dire c'è la nascita poi finiamo il contatto vuol dire c'è la chiusura e allora arriva anche la morte noi viviamo in materia, c'entra materia perché attraverso il nostro corpo fisico noi cominciamo a fare la connessione con il mondo spirituale e lì ovviamente il mondo dello spirito e il regno dello spirito per questo se c'è un conflitto con lo spirito e non funziona non funzionerà né tempo né spazio e sono tutte legate le forze una con l'altro non si può fare nessun tipo di situazione non si può creare una situazione non si può vivere a pieno la situazione se dentro in esso non c'è un'armonia e equilibrio ogni rapporto basato sempre alla base di sei concetti noi entriamo in rapporto con qualcuno perciò utilizziamo il nostro spirito e le nostre emozioni noi costruiamo tutto in materia questo rapporto con i gesti, facciamo amore e comunque è una vita anche immateriale, tangibile noi abbiamo i tempi di questo rapporto, abbiamo l'inizio del rapporto, abbiamo la fine del rapporto abbiamo i spazi dove svolgiamo tutti i nostri incontri, rapporti eccetera lo spirito è importante perché se io nel mio rapporto butto delle emozioni negative io lo porto verso la morte questo rapporto, anche consapevolmente perché tutto è basato sulle emozioni un'emozione più alta che esiste nell'universo è l'emozione d'amore se volete guarire, se volete mettervi d'accordo con il vostro spirito questa emozione alza tantissimo le vostre vibrazioni odio, sensi di colpa, disprezzo, schifo e tutto il resto che voi percepite negativamente abbassano le vostre vibrazioni non potete alzarvi verso comunicare con i livelli più alti che esistono nell'universo perché loro vibrano soltanto nell'altezza dell'emozione legata all'amore questa è alta spiritualità se avete trovato i conflitti con lo spirito vuol dire che ci sono emozioni negative dentro di voi e vuol dire come conseguenza anche il vostro corpo astrale è un po' deformato e vibra a livelli bassi e abbiamo bisogno di alzare queste vibrazioni soprattutto visto che siamo sul canale così spirituale e ci sono i medium, ci sono le persone che lavorano già con la spiritualità fatte delle meditazioni se le vibrazioni sono bassi se dentro di voi ci sono ancora questi conflitti c'è la negatività non si può fare un lavoro pulito al 100% e come fingere? fingere di essere spirituale vi spiego adesso ho appena litigato per esempio con mio marito poi dico ok faccio la meditazione e adesso porterò all'universo tutto il mio amore sto lì 5 minuti nell'amore verso l'universo sono tutta nella mia beatitudine poi ho finito e vado a mandare di nuovo mio marito a quel paese dov'è la coerenza? anche se per un attimo alzo le mie vibrazioni ma non elimino quella roba che ho dentro di me capite quanto è importante? non si può avvicinarsi alla spiritualità avendo il conflitto con lo spirito e ovviamente poi la nascita in materia e la morte quanto rancore abbiamo dentro? quante cose non pulite? vi chiedo adesso di fare una cosa chi soprattutto ha trovato conflitto con lo spirito? ok? se non avete complitti complimenti avete fatto un gran bel lavoro ma secondo me non avete soltanto utilizzato il pendolo così come si deve perché lo trovo anch'io ogni tanto basta una volta percepire un'emozione negativa ti fa vedere subito che hai il conflitto e poi dopo se non riesci a fare un contatto medianico perché? perché il tuo corpo astrale è deformato non vibra nelle energie alte nelle vibrazioni tali che possono aiutarti a connettersi con lo spirito dell'universo la piramide è tutta distorta se noi torniamo a quel discorso piramidale sono sei concetti che si uniscono in punto del potere se voi volete essere creatori bisogna sentire più spesso questo punto zero punto del creatore il punto del vostro mago interiore per poter fare veramente tante cose quello che desiderate allora cosa possiamo fare ora per poter elaborare almeno un conflitto bene prima di tutto se mi concedete cinque non cinque qualche istante perché non voglio farvi una lunghissima meditazione non voglio però chiudete per favore gli occhi un attimo chiudete gli occhi entrate in contatto con il vostro spirito io non lo so come lo vedete come lo potete percepire ma è un'emozione più grande che esiste dentro di voi è una particella del creatore che lui vuole che voi diventate così forti e bravi come lui stesso Rita tu hai scritto che hai conflitto ho perso un figlio tanta rabbia dentro ma questo è il conflitto con la morte e con lo spirito e anche con la morte poi dopo ne parleremo ok e ora immaginate che il vostro spirito è come un'entità come un vostro collaboratore prima lo avete sentito dentro di voi però adesso immaginate che è di fronte a voi e che potete parlare con il vostro spirito proprio come una persona come lo vedete? chi riesce a immaginare? come vedete il vostro spirito? è un signore? o un ragazzino? o può essere anche una donna? può essere una cosa un po' astratta? è la vostra forza voi siete adesso faccia in faccia anche con la vostra forza e voi avete la possibilità di parlare con questa forza e chiedere puoi dirmi per favore almeno uno dei conflitti che io ho iniziato con te cosa ti ho fatto? come mi sono comportato? dammi per favore almeno una parola di una mia emozione o fammi vedere una situazione nella mia vita dove io ho portato la forza dello spirito non per la creazione ma per la distruzione per distruggere me stesso o distruggere qualcuno non può essere che il vostro spirito non vi risponde perché è la vostra forza è come parlare con se stesso è come parlare con se stesso vi può far vedere nella vostra mente per un attimo un flash di un ricordo del passato un fascio di luce va benissimo ma può essere anche una persona chiedi perché non riesco sentire delle belle emozioni quale emozione negativa devo togliere devo elaborare per poter poi caricarmi delle energie forti cosa quale tipo di vibrazione devo avere per poter distruggere quello che mi fa ammazzare e quello che non mi fa collaborare con te al 100% quando capirete vedrete che vi arriverà come un'illuminazione vi arriverà un ricordo una parola il vostro spirito sa come collaborare con voi è contentissimo che adesso le state chiedendo qualcosa che lo prendete in considerazione quando avete sentito ringraziate il vostro spirito basta sentire una cosa è come un esempio di come potete lavorare poi a casa e poi tornate tornate qui pensando è vero quello che avete percepito e questo poteva succedere con voi in qualsiasi tempo nel passato in qualsiasi luogo perciò qui anche lo spazio entrando in conflitto con lo spirito noi sporchiamo anche i spazi dove abbiamo percepito questa emozione negativa e se quello spazio e se quello spazio era a casa vostra dove avete buttato fuori di voi tutte le emozioni tutte le energie negative avete sporcato anche l'ambiente perciò bisogna purificare anche la casa poi io vedo gli occhi di mio figlio oh Rita cara capisco capisco di sicuro hai tratti di un uomo va bene Mariella perfetto anche il mio spirito lo vedo come uomo mi ha fatto emozionare Remo sono contenta perché il tuo spirito vuole darti delle emozioni vuole che tu senti ciò che è veramente rappresenta come l'essenza ciò che deve essere perché il creatore ha creato questo universo utilizzando questi sei concetti spirito materia tempo spazio morte la nascita per portare armonia e equilibrio per poter dare giuste proporzioni tutto quello che tiene la creazione ancora in vita e noi quando creiamo qualcosa nella nostra vita quando consideriamo queste nostre forze allora ho scritto però non riesco a condividere schermo purtroppo due elenchi io vi prometto che queste due elenchi delle emozioni positive e negative vi mando subito sotto il video ok allora preparatevi che vi mando proprio un non so tutto il materiale d'accordo che lo trovate sotto sotto il video spirito è un'eremita la paura di non essere amata cara sì questa è la paura è un'emozione negativa il mio spirito mi ha fatto capire il conflitto perché ho paura della morte ok paura della morte quando abbiamo la paura ragazzi la paura è la mancanza delle informazioni quando noi non sappiamo qualcosa noi abbiamo paura io non so ciò che nasconde quel buio perciò non entro nel buio non so che che mi è arrivato come un ospite notturno non so come comportarmi se mi arriva per esempio uno spirito allora ho paura allora un uomo con la barba bianca vecchio un saggio bella bella cosa per esempio io vedo il mio tempo come un giovanotto il mio spirito molto somiglia al tuo spirito un uomo molto saggio la mia materia è una bella donna cioè una bella bella donna forte e comunque con ognuno di loro ho cominciato a impostare un rapporto di fiducia io ho cominciato ad ascoltarli tutti quanti li ascolto e allora ragazzi proviamo a fare questa bella pulizia dentro di noi proviamo a dare ascolto alle nostre forze perché se no non riusciremo a creare niente nella vita che creatore sono se tutti i miei strumenti di lavoro sono sporchi non sono funzionanti se non riesco a fare una piccola cosa per me cosa voglio creare ancora come grandi progetti sì il proprio spirito è la stessa cosa dello spirito guido no Giovanna no noi stiamo parlando dovete comprendere un attimo il concetto di forza anche il mondo spirituale è una forza la forza è un concetto molto mistico voglio portarvi un'altra visione noi dentro possiamo avere la forza fisica noi abbiamo la forza fisica cioè tutte insieme ciò che riguarda la fisicità abbiamo la forza spirituale nostra personale abbiamo la forza di volontà abbiamo la forza del pensiero capisci cosa vuol dire la forza però abbiamo le forze importanti anche in universo per esempio quando parlo con il mondo spirituale per me tutto il mondo spirituale con tutto il contenuto del mondo spirituale la saggezza entità se io dico tutto in un'unica parola per me è una forza io posso dire che ora sono in contatto con la forza non mio ma intendo dire la forza dell'universo lo spirito come la forza accumula dentro di sé tutto ciò che noi pensiamo a livello spirituale questa è la forza di tutto di tutto ciò che è lo spirito e sotto la forza di spirito abbiamo i spiriti guida e angeli abbiamo diverse dimensioni abbiamo i nostri trapassati sono tutti quanti che sono i spiriti libere sono sotto il concetto della forza spirituale come anche il tempo guardate noi abbiamo la percezione del tempo completamente diversa perché quando eravamo piccoli non vedevamo l'ora quando diventeremo maggiorenni quando diventiamo vecchi vogliamo che il tempo si rallenta caspita perché non vogliamo invecchiare una persona ammalata vede e sente la percezione del tempo in modo completamente diverso da come vedrebbe il tempo una persona libera una persona sana attimo di felicità che dura un istante cioè noi percepiamo il tempo sempre nella modalità diversa ma stiamo parlando di noi poi abbiamo il tempo di questo pianeta poi abbiamo il tempo del mondo spirituale di altre dimensioni dell'universo ogni cosa ha il suo tempo e questo in generale la forza del tempo io spero che sono riuscita a spiegarvi ciò che intendo per la forza e poi dopo ci sono altri tipi di forza però per me quando parlo di questi sei concetti in un unico concetto c'è già tutto tante cose dell'universo legate alla creazione in generale ok e poi ci sono anche sottoconcetti e infatti tutte le nostre emozioni negative quelle che dobbiamo elaborare ragazzi vi raccomando alziamo le nostre vibrazioni cerchiamo di entrare in buon rapporto con le nostre forze personali che rappresentano tante parti di noi dei ambiti della nostra vita e cerchiamo di capire perché non funziona con i soldi che cosa ho fatto alla materia che ha smesso di darmi il bene materiale cosa ho fatto alla materia che adesso sento la malattia nel mio corpo fisico cosa ho dato ho fatto allo spazio come sono comportata con la morte dove non ho chiuso un certo circolo per poter poi attraverso attraverso aiuto della morte cominciare finalmente a finire quello che doveva essere finito chiudere voi non immaginate ma la morte come la forza in generale non è soltanto quello che ci porta via nel mondo spirituale ma ha altre ruole uno di quelle è essere la nostra protettrice sembra strano suona strano però credetemi quando voi cominciate entrare in conflitto con la morte vi accadono tutti incidenti di qualsiasi tipo anche quando tagliate la mano ma non vi dico incidenti stradali qualsiasi cosa che può portare in un modo o l'altro pericolo per la vostra vita vuol dire che la morte ha smesso di aiutarvi perché la morte sa come la forza quando arriva il vostro ultimo momento nella vita e credetemi fa tutto il possibile per portarvi al termine proprio in quel preciso momento di non strapparvi dalla vita prima però quando noi entriamo in conflitto con la morte per tanti motivi la morte dice vabbè non mi vuoi io ti do la mia forza e tu la usi per la distruzione pensando alla morte di qualcuno maledire qualcuno non so far morire dentro nelle altre persone loro speranza il loro amore questo è il conflitto con la morte non soltanto perché avete ucciso qualcuno si entra in conflitto con la morte no si può ammazzare con la parola e una persona smetterà di vivere come già un cadavere che cammina perché abbiamo ammazzato psicologicamente capite capite cosa intendo a dire per la forza e per i conflitti sotto questo video vi manderò elenco delle emozioni negative e delle emozioni positive allora lavoro con il pendolo se potete stampate o trascrivete queste emozioni se non vi contentate di quello che vi manderò potete da sole cercare un elenco su diversi siti internet delle vostre emozioni di emozioni negative che esistono prendete il vostro pendolo entrate in contatto con il vostro spirito e passate questo elenco soprattutto chi ha proprio visto che ha 3 6 10 conflitti quante ne avete e chiedete allo spirito mi puoi dire per favore quale di queste emozioni ha avuto quella grande influenza sul conflitto perché ha smesso di aiutarmi e passate e vedete su questo elenco vi farà vedere le vostre proprie emozioni il vostro compito di accettarli accettare che esistono davvero dentro di voi perché elaborazione di queste emozioni negative passano attraverso la presa di coscienza attraverso la consapevolezza che loro veramente esistono dentro di voi e non potete più fingere non potete più sfuggire non potete più fare nulla per poter evitare e bisogna incontrare queste paure questi sensi di colpa frustrazioni faccia in faccia e una volta per sempre risolverli finalmente mettere il punto e a posto di queste emozioni basse delle vibrazioni basse bisogna far entrare nel nostro corpo astrale che sta soffrendo perché noi quando attraverso il corpo astrale entriamo in contatto anche con il mondo astrale simile attrae simile se voi vibrate nelle energie così basse come potete attrare angeli nella vostra vita loro hanno bisogno di altri tipi di emozioni un'emozione negativa è come una malattia che abbiamo dentro di noi e questa malattia queste vibrazioni vibrano in tale modo che vanno poi a rovinare i nostri organi ho visto tante persone ammalate nel corpo fisico soltanto perché avevano la rabbia dentro o la paura aggressività esistono i libri che infatti raccontano che ogni malattia ha il suo sintomo e sicuramente avete già sentito se fa male il pegato vuol dire la rabbia eccetera provate a vedere perché sono già state scritte libri su questo su questo argomento però noi per la guarigione personale ciò che ci aiuta a guarire abbiamo bisogno di trovare le nostre vibrazioni personale e sull'altro elenco dopo aver lavorato aver tolto quel nemico che avete dentro di voi avete bisogno di trovare la vostra vibrazione quella che vi aiuterà a salire c'è un elenco delle emozioni positive però non tutti quanti magari avete bisogno come la medicina una volta metà medicina sì Cristina grazie una volta quando ho elaborato tutto questo mi è arrivata una un'emozione che era ammirazione quella che era medicina per me personalmente e io ho guardato ammirazione cosa vuol dire ammirazione e ho dovuto credetemi ragazze di imparare sentire dentro di me questa emozione perché se no non riuscivo a capirla ma per me era proprio medicina ciò che faceva guarire il mio spirito e alzare le vibrazioni sostituendo tutto quello che ho elaborato per qualcosa molto più grande c'erano alcune emozioni positive ma dove il mio pendolo non si è fermato perché non era proprio quello che mi serviva in quel preciso momento emozioni bisogno percepire con l'anima non con la testa se voi continuate a dire ecco fiducia fiducia ammirazione ok va bene e le accumulate qui nella testa non succede il miracolo non succede niente affinché voi non sentite queste vibrazioni dentro di voi e allora lì funzionerà allora riassumendo tutto chi è arrivato tardi mi dispiace magari dovete guardare dall'inizio o ascoltare è stata fatta un po' maluccio la registrazione l'altra volta non corrispondeva l'audio con video e mi dispiace perché ho raccontato tante cose legate a questo a questo modo di vedere il mondo un po' mistico un po' un po' magico dal punto di vista noi siamo creatori e ricordo questo compito a casa prima di tutto passate con il pendolo tutti quanti i concetti spirito materia tempo spazio morte e la nascita per sentirli come la vostra forza gli strumenti con quale potete creare qualcosa di utile nella vita e quando avete trovato la quantità quanti conflitti ho con spirito sei quanti conflitti ho con la materia ma mentre le state cercando dovete stare nel vostro punto zero di questo punto dove voi unite tutte le vostre forze chiamate ogni forza di fronte a voi per poter parlarli e se non riuscite capire che tipo di conflitto avete creato non riuscite sentirli direttamente dalla vostra forza allora fate stampate questo elenco che vi mando ma potete trovare anche molto e molto di più riguardo le emozioni negative soprattutto quella che comincia a rovinare tutta tutta la vostra vita e passate quale emozioni negative mi hanno fatto entrare in conflitto con il mio spirito sei conflitti la base di quale emozione prima paura scritto paura poi disprezzo disprezzo disgusto disgusto ok poi offesa va bene offesa avete annotato e questo soltanto per lo spirito poi non parliamo materia tempo spazio e poi quando vedete quanta roba avete dentro di voi potete capire ciò che vi sta bloccando veramente nella vita di poter viverla con tutta la felicità e veramente creare qualcosa e quando avete elaborato sarà abbastanza lungo io addirittura per fare elaborazione di tutta questa sporcizia che ho trovato dentro di me ho dovuto fare un ritiro personale mi sono ritirata per tre giorni e credetemi ho fatto un lavoro che mi faceva piangere ero disperata ho dovuto ricordare tutta la mia vita ma poi quando mi sono liberata e ho capito che veramente ho elaborato ho trovato la forza di perdonare le persone che mi hanno offeso e ho portato questa offesa offendendo anche il mio spirito in questo capite e quando ho elaborato tutto poi dopo ho passato elenco delle emozioni positive ma non per percepirli tutti ma quelli che possono veramente portare guarigione alla mia forza e ho dovuto percepirli tutti quante insieme tutti credetemi mi sto dando uno strumento con quale ho lavorato da sola e vedo che funziona e per questo mi sono permessa a proporlo anche a voi vedo che siete state molto attive caspita siete in 125 che mi seguite ancora lo so che siamo arrivate anche un pochettino fuori del tempo se non capite qualcosa ragazzi potete scrivermi sotto questo video vi manderò subitissimo tutto quello che volevo darvi nella condivisione del schermo ma non sono riuscita e magari a qualcuno questo modo di vedere la forza dell'universo trovare la forza dentro di voi potrebbe essere un punto dell'ispirazione per creare qualcosa di bello e per ragionare un attimo ciò che stiamo vivendo e perché non abbiamo nella vita quello che desideriamo vi ringrazio tantissimo di cuore tutti quanti ringrazio come sempre Giorgio Enrico per la possibilità di poter condividere con voi anche una parte della mia vita ma anche diverse tecniche che ci ci possono aiutare a crescere nella condivisione perché se qualcuno ha uno strumento secondo me questi strumenti devono essere condivisi divulgate attraverso libri attraverso video fate anche voi se voi avete capito il funzionamento di quello che vi ho spiegato raccontate anche alle altre soprattutto chi purtroppo non riesce non riesce uscire dalle trappole della vita e magari intrappolandosi dentro proprio con le proprie energie e emozioni alziamo le vibrazioni diventiamo le persone spirituali così come si deve come il creatore ci ha voluto va bene grazie è stato veramente molto piacere stare qui con voi e alla prossima grazie buona serata a tutti buonanotte grazie grazie